Nel 1509 Erasmo da Rotterdam pubblica un piccolo libro intitolato Elogio della Follia. La domanda che Erasmo si pone è ma vale la pena sacrificare la propria felicità in nome della ragionevolezza, della razionalità? No. Erasmo afferma che per essere felici bisogna essere pazzi. Sì, pazzi, perché è la pazzia che ti aiuta a dimenticare e superare tutte le cose che non vanno, che ti fanno male, che ti feriscono, fino anche alla morte. Erasmo scrive che se la vita si diffonde è solo merito della follia, perché solo la follia ci aiuta a scovare il piacere anche quando di piacere non sembra essercene traccia. È la follia che ci fa innamorare di uno sconosciuto e affidarsi a lui totalmente, che ci fa amare i figli prima ancora di conoscerli e di sapere quello che diventeranno, che ci fa piangere guardando un film o ascoltando una canzone. È la follia che ci fa essere felici come bambini se la squadra che tifi vince il triplete. Insomma, per essere felici occorre essere pazzi, per cercare strade sconosciute, buttarsi in imprese impensabili, per cercare di realizzare l'impossibile. E' solo la pazzia che ci permette di vivere e di sognare.